Cari amici dei dialoghi interiori, benvenuti al trentaduesimo episodio della rubrica delle vostre esperienze personali. Sono due ore che litigo con le luci, probabilmente questo video risulterà buio, abbiate pazienza ma se accendo la luce non si vede più la faccia, quindi niente, a tra pochi secondi. Iniziamo subito cari amici con la storia di Chiara, chiaramente sono tutti nomi inventati. Allora io leggo questa storia e vi faccio un piccolo annuncio, le email da leggere sono tante, alcune sono lunghe, 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 pure se va detto vi prego, siate brevi, quelle chiaramente, cioè mi devo concentrare di più per leggerle, quindi un attimo di pazienza e piano piano vi leggerò tutti. Adesso oggi vado un po' su storie più brevi, tanto per capire le dinamiche, ma prometto piano piano è il turno di tutti. Allora vediamo che ci dice Chiara, conobbi colui che poi sarebbe diventato mio marito quando avevo 17 anni, oggi mi rendo conto che segnali di pericolo li avevo già all'epoca del fidanzamento, ma vuoi per l'età e per l'innamoramento non vedevo. Il mio calvario inizia quando ci siamo sposati, ero in attesa di nostra figlia e andammo a vivere con i suoi. Ero succube non solo sua ma di tutta la sua famiglia, soprattutto della madre, avevo perso la mia vita, le mie abitudini, soffrivo, a volte mi ribellavo ma sempre lì rimanevo perché poi mi bastava poco per riconquistarmi. Nostra figlia cresceva e quella vita non era ciò che avrei voluto per mia figlia. Cercavo di dirgli che volevo la mia privacy, vivendo solo noi tre, ma lui nulla. Per causa di forza maggiore riuscimmo ad andare a vivere soli, ma la nostra casa diventava il nostro nido solo la sera, all'ora di dormire. Passavo intere giornate sempre con i suoi. Avevo giorni prestabiliti per andare a trovare i miei, non avevo più le mie amicizie, non potevo far nulla, sempre sola e solo con mia suocera. Avendo comprato casa lui mi diceva che una volta pronta saremmo andati lì. Io l'ho indotto allo scarto cacciandolo di casa e perché gli ho spressamente detto che non l'avrei seguito e così è stato. Ha richiesto lui la separazione ma appena abbiamo firmato i documenti mi ha ricercata con il love bombing e ci sono ricaduta. Lo scorso anno lui va a convivere con una ragazza da cui poi avrà un figlio ma nonostante ciò a giugno mi ha ricercata sia durante la gravidanza che dopo nato il figlio ad ottobre. Ci sono ricaduta di nuovo. Ora siamo in fase di divorzio giudiziale, lui mi aggredisce verbalmente, tutto ciò che fa lui di sbagliato lo proietta su di me, usa e manipola nostra figlia. Sono in terapia dal 2020 ma ho degli up and down. Grazie a te Giulia sto capendo tante cose e mi sto riprendendo piano piano. Mi sembra di rivivere quello che ho passato da spettatrice questa volta. A volte vorrei vendetta ma già la sua vita mi sta facendo capire che non è una persona in pace con se stessa. Leggimi per favore. Mia cara Chiara, ti ringrazio tanto per questa testimonianza, ci fa capire determinate cose proprio in modo palese, no? Questi non vogliono una compagna, una moglie o io no, una prigioniera o un prigioniero perché io invito sempre anche gli uomini a scrivermi. In questo frangente ho ricevuto adesso storie da donne e quindi mi rivolgo appunto a seconda di cosa mi scrive chi. Quindi in questo frangente capiamo come questo personaggio in realtà voleva una prigioniera sotto il controllo totale della madre, della famiglia, del clan e tu giustamente poi alla fine ti sei ribellata, chiaramente ci sei ricaduta tutte le volte, hai riproposto la stessa dinamica con un'altra che poi poraccia questa appunto con tutto che stava in gravidanza, c'ha le corna perché lui tornava da te. Insomma quello che tu dici alla fine è reale, non è una persona in pace con se stessa e l'abbiamo capito. Mi dispiace tantissimo per tua figlia, mi raccomando subito metti i paletti, fatti aiutare appunto dall'avvocato e cerca poi piano 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 di far capire a tua figlia che cosa sta vivendo perché è importantissimo. Credo anche a quello che dici, adesso sto rivivendo da spettatrice, no? Spesso purtroppo le prede hanno anche questa doppia funzione, cioè le prede successive di farci capire meglio quello che abbiamo vissuto pure noi, perché lo vedi dall'esterno lo capisci meglio. Quindi dagli tutta, chiara mia, ti abbraccio forte e grazie per questa testimonianza che sicuramente aprirà dei cassetti anche ad altre persone. Adesso vi voglio leggere, la chiamiamo Anna, anche se non è il suo vero nome. Ciao, sono Anna, la mia storia è triste, è un copione letto e riletto, 29 anni di abusi psicologici e di lento spegnimento. Ho aperto gli occhi grazie a te e alle testimonianze di molte altre persone, grazie alle parole dure di chi vedeva le cose come stavano veramente, mia sorella, le mie amiche. Quindi parlerò della mia rivincita. In 29 anni oltre all'anima mi ha succhiato soldi, sono andata via da casa sua, da me costruita ed arredata, con 134 euro sul conto, due figli, solchi delle lacrime e pezzi di anima da ricomporre. Sono passati due anni e nonostante la sua mancanza nel mantenere i figli ho lavorato tanto, ho pagato un affitto, mangiato e cresciuto i bambini senza far mancare loro nulla. Ho comprato un appartamento piccolo con l'aiuto dei miei che sto sistemando e a breve ci andremo. Ho instaurato amicizie nuove e fantastiche, mi sono avvicinata al buddismo, ho avuto un'offerta lavorativa gratificante, ma soprattutto ho rimesso su il mio orgoglio, la mia dignità di donna e madre, la solitudine non mi spaventa più. Mi è rimasta l'anima a pezzi che sto ricomponendo con l'aiuto della psicologa e con gli abbracci dei miei figli, quegli abbracci che in 29 anni non ho mai ricevuto. Grazie per ciò che hai fatto per me e per tante altre persone che si sono date la possibilità di aprire gli occhi. Anna mia che bello, grazie per questa testimonianza che vale 100.000 volte perché cazzarola, hai capito, con 134 euro sul conto hai avuto il coraggio di fare, scusate mi muovo troppo, sono fatta così e sto a fare un casino che trema tutto, cerco di stare più ferma anche se non ci riuscirò. Dicevo fare un gesto del genere, andare via di casa con 134 euro è quello che io chiamo fare il salto nel cerchio del fuoco, buttarsi senza paracadute sapendo che il paracadute comparirà, quello è avere fede. Bellissima, bellissima questa testimonianza e grazie perché è veramente meglio mangiare pane e cipolla ma ricostruire la propria dignità che stare in queste situazioni dove vieni distrutto però magari stai tranquillo a livello economico. No, brava, 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 veramente, daglie tutta con tutto il cuore. Per ultima ma non per importanza oggi leggiamo la testimonianza di Filomena, mi sono inventata un nome. Ciao Giulia, prima di tutto volevo ringraziarti per quello che fai e farti complimenti perché davvero non so dove tu trovi la forza ma anche il tempo per tutto quello che fai per noi, sei una presenza di conforto continua. Grazie, grazie, grazie. La mia storia è lunga, cercherò di essere breve. Non vorrei che dicessi il mio nome, inventatene pure una, infatti Filomena. Fino a quattro anni fa ero in completa dissonanza. Io ero convinta che dopo tutto la mia famiglia di origine fosse una bella famiglia sana, con sani principi anche se mio padre ed i miei fratelli erano nervosi ed anche la famiglia che mi ero creata poi fosse perfetta nonostante mio marito fosse nervoso. Ecco la scusa per tutto. Prima mia madre è nervoso per il lavoro, poi con il mio narcisista è nervoso per il lavoro. Ora è nervoso perché ha perso il padre, ora è nervoso perché abbiamo traslocato e così via. Grande classico, aggiungo io. Io sono l'ultima di un po' di figli, il più grande ha vent'anni più di me. I primi sono narcisisti, noi ultime dipendenti affettive. Mio padre è grande lavoratore, mia madre si faceva in mille, lui voleva cucina perfetta, mia madre magari stava ore a cucinare e se la pasta era calda e non bollente io vedevo il piatto volare con tutto il cibo. Mia madre veniva sminuita in continuazione. Poi hanno iniziato i fratelli, loro arrivavano anche alle mani. Con mia madre le mie sorelle, uno di loro prese il mio gattino. No, scusami non lo riesco a leggere, perdonami, perdonami. Non lo taglio però immaginate, scusate ma queste cattiverie sugli animali non gliela faccio manca a leggere. Il mio narcisista l'ho conosciuto a 23 anni e se n'è andato qualche settimana fa. Siamo stati insieme 20 anni, abbiamo figli. Credo che mi ricordasse mio padre, molto intelligente, dedito a parole, poi a differenza di mio padre non ha concluso quasi niente al lavoro. Infatti l'ho sposato quando mio padre è morto. I suoi atteggiamenti erano strani fin da subito, ma non ho dato ascolto alla mia voce e sono andata avanti. Faceva scenate, era molto geloso. Ricordo perfettamente dove eravamo quando mi svalutò la prima volta. Mi disse, non hai personalità. Mi chiedeva sempre soldi e pretendeva che li chiedessi a mio padre per sue idee imprenditoriali. Ovviamente mio padre non me li dava e lui svalutava i soldi dicendo, per due spicci, quando invece ne chiedeva molti. Poi mio padre è morto, a me aveva lasciato qualcosa e lui mi sposò subito. Aveva firme e deleghe su tutto. Io avevo conosciuto suo padre al matrimonio. Non ero mai stata invitata a casa sua. Diceva che la sua casa aveva poche stanze, ma molto grandi, e che suo padre aveva, avendo avuto un ictus, rispondeva male ed era meglio non presentarmelo. La madre non mi invitava mai, neanche quando non c'era il marito. Alla fine ho scoperto che il suo appartamento era molto piccolo. Non che a me interessasse questo, è per far capire che lui si voleva mostrare per altro e non per quello che era realmente. Ho sempre avuto la sensazione che lui fosse invidioso di me. Finché avevo qualche risparmio di mio padre che gli permetteva di fare la bella vita, la situazione era sostenibile, anche se ovviamente mi manovrava, sminuiva e comandava in tutto. Ma quando i soldi sono finiti è stato terribile, minacce continue, silenzi per settimane, che preferivo comunque rispetto alle urla. Grida contro di me davanti ai bambini, finché mia sorella mi disse la parola narcisismo. E da lì ho iniziato a togliermi gli occhiali rosa e a conoscere te Giulia. E finalmente è uscito. Non mi soffermo nei dettagli, ci sarebbe davvero tanto da raccontare sulle cose fatte, solo per incutermi paura. Ed io ne avevo tanta, si percepiva. Ne ho avuta di mio padre che non crede, che non credo fosse narcisista perché lui poi cambiò e si pentì. E la paura mi ha tenuta legata al mio narcisista. Ora sono sola, con i miei bambini senza più risparmi, ma serena e lucida. Non ci sentiamo, ci scriviamo solo email per quando vuole vedere i bambini e parla solo con loro. Ma meglio così, ha ancora poteri su di me se lo sento e devo lavorare su questo. Grazie Giulia, ho scritto veloce, spero si capisca. Ci sarebbe davvero tanto da dire, ma ovviamente termino qui. Ho cercato di essere più vaga possibile perché non voglio fare nomi, eccetera, eccetera. Mia cara Filomena, ti ringrazio tantissimo e quindi niente, sostanzialmente credo che tu abbia fatto una fotografia davvero interessante perché per quanto tu dica appunto mio padre poi alla fine si è pentito, eccetera, comunque ti ha dato un modello di amore improntato sulla paura, no? Quindi è quello che poi tu hai ricercato inconsciamente anche nella tua relazione e guarda quante cose sono emerse. Il fatto che appunto il tuo ex marito si raccontasse per ciò che non era davvero, per quanto poi fosse opportunista, interessato perché come lo sappiamo questi soltanto quando ci hanno bisogno e tu gli soddisfi quel bisogno, quindi nel momento in cui tu gli facevi fare la bella vita, come hai detto, gli andavi bene e dopo è diventato aggressivo, cattivo, eccetera, minacce, eccetera. Quindi proprio vediamo come queste persone ci tengono nella paura. Quindi bellissima per quanto bruttissima, però questa fotografia che ti dà proprio questa informazione importante, è fuori dalla paura che c'è la vita. Grazie, grazie di cuore Filomena. Io ragazzi allora per oggi termino, non voglio fare degli episodi troppo lunghi perché poi comunque queste cose ci sovraccaricano, poi la tensione cala, meglio che rimaniamo su un minutaggio decente. Scrivetemi a dialoghi.interiori-gmail.com. Come ripeto, mi raccomando, abbiate pazienza, piano piano vi leggo tutti. Daglie tutta, un bacione grande e ci vediamo alla prossima.